Non ho voglia di vedere nessuno. Una vita tra sogno e realtà, attraverso Maria Carrassi. Giorni cupi di profondo dolore, il tempo non passa mai, non ho voglia di vedere nessuno, sono giovane. Ho 26 anni, ho forse 38, ma mi sento distrutta senza di lui, non riesco a sopravvivere. Poi mi vedo dapprima inginocchiata, sofferente, ho in mente pensieri funesti, poi mi vedo distesa su un letto, una lettera accanto a me. A questo punto si sovrappongono due date, 22 febbraio e 22 gennaio 1792. Commento Un altro tipico esempio di sogno astrale è il reincarnativo.